...nell'ambito della storia dell'archeologia e dell'archeologia tutta, con una esperienza di settore di direzione agli scavi di Pompei, ma non solo, anche una persona estremamente umana, una persona che è stata capace di guidare un team di studiosi che a volte non è cosa facile. Prego, a lei la parola. Grazie, è una presentazione molto superiore alle mie qualità. La cosa che posso dire è che sono molto lieto e onorato di essere qui in questa impresa, che appunto, come si diceva prima, si apure nello spazio di due secoli e ha trasformato i rapporti tra la Svizzera e la parte meridionale del nostro paese. ...del mio paese. Con un rapporto che sia pure casuale c'è stato fin dal fine del XVI, inizio del XVII secolo, quando Domenico Fontana, il grande architetto Fontana, che come sapete è dovuto fuggire da Roma perché è implicato in strani affari per il quale il Papa lo perseguitava, e quindi è fuggito nel regno di Napoli e è stato incaricato dal Duca a tutta villa di costruirgli un canale deviando l'acqua del fiume Sarno per porla al servizio delle macchine che naturalmente allora andavano a forza naturale, certo non avevano ancora inventato il vapore, era il motore a vapore, e le macchine di Torre Annunziata dove si facevano armi. Quindi ritorniamo a questo aspetto così un po' truce, diciamo così, e Domenico Fontana scavando il condotto del canale si imbatté nelle antichità di qualche cosa, di epoca romana trovò delle iscrizioni il dine, altri oggetti e via dicendo, ma di questi ritrovamenti si è persa quasi completamente la memoria, cioè si sono persi gli oggetti stessi, rimasto solamente il testo di due iscrizioni il dine che poi sono state trascritte nel corpus iscrizionum latinarum alla fine dell'Ottocento e di questa scoperta non si è più parlato. Allora la casualità appunto che diceva la signora Ostenna Cavadini si sprigiona completamente in questi fatti di Fontana che sono rimasti senza seguito da un lato ma che dall'altro se li vediamo all'interno di una diagronia lunga e di uno sviluppo positivo del pensiero critico e dell'attenzione all'antichità sono essenziali perché appunto generalmente si dice appunto che nel 1738 a Ercolano, nel 1748 a Pompei sono cominciati gli scavi ma la conoscenza dell'antica città era cominciata ben più di un secolo prima. Questo secolo di intervallo tra la casualità di Fontana e le altrettanto casualità sia di Ercolano che di Pompei perché Ercolano fu ritrovata, ma parla lo sa meglio di me, scavando un pozzo quindi proprio senza interesse archeologico e Pompei perché arando un campo che si sprofondò e il bue che tirava l'aratro, quindi più casuale di così non si muove. Dicevo, questo secolo abbondante che ci è stato di mezzo è quello che ha permesso uno sviluppo dell'attenzione critica, della conoscenza, della critica della storia, della critica dei ritrovamenti archeologici che ci ha portato poi allo stato attuale, al stato attuale che naturalmente sarà superato in meglio dai nostri successori. Noi però siamo contenti di quello che sappiamo, ci accontentiamo diciamo di quello che sappiamo e speriamo che anche voi possiate ricevere una buona impressione dallo sforzo che è stato fatto di mettere insieme questa documentazione grafica.